da modifica ai punti di controllo andremo a modificare il nostro punto corrente di solito quando faccio questa operazione quando animo un'immagine sorgente nei frami di destinazione tengo sempre l'immagine sorgente al centro e tengo selezionata applica istantaneamente in modo da vedere quello che faccio nell'anteprima aggiungiamo un punto praticamente il nostro primo punto verrà duplicato e spostarlo possiamo tranquillamente spostare aggiungi un altro punto abbiamo il terzo eccolo qua praticamente non fa altro che duplicare l'ultimo punto e aggiungerlo adesso ipotizziamo di trovarci su un punto intermedio se noi inseriamo un punto il punto selezionato viene duplicato e possiamo tranquillamente spostarlo con elimina punti praticamente eliminiamo il punto se noi vogliamo andare al punto precedente punto successivo al primo punto l'ultimo punto con reimposta punto ipotizziamo di aver fatto delle operazioni in questo punto corrente che ne sono abbiamo cambiato lo zoom l'opacità e non ci va bene le operazioni che abbiamo fatto allora, rimpostiamo il punto e torna a tutto di default ovviamente rimposta tutti i punti torneranno tutti i punti di default poi abbiamo elimina tutti i punti non fa altro che eliminare tutti i punti vedete? discorso a parte merita cattura il tracciato segue rotazione apri e salva